Questa mattina abbiamo deliberato l'intervento di pulizia straordinaria di circa 24.000 caditoie presenti in città. Sono praticamente quelle bocchette che vedete lungo le strade, che tante volte le vedete anche proprio piene, tra aghi di pino, terra e altro. E in questa situazione di forti piogge abbiamo visto che purtroppo hanno anche comportato notevoli disagi. Per cui si tratta di un intervento che avevamo previsto con l'assestamento di bilancio e che ora diamo immediatamente attivazione proprio per cercare di dare subito un riscontro in termini di sicurezza. Però si tratta di un intervento che ha una duplice valenza, perché è molto importante anche per l'efficacia di quella che è la disinfestazione delle zanzare. Perché avendo dei pozzetti puliti, salubri e quant'altro, anche queste pastiglie hanno poi un riscontro molto più efficace. Da questa delibera odierna diamo altresì mandato al servizio ambiente di iniziare a predisporre un dialogo insieme a NET e a CAFCA al fine di individuare e definire un protocollo proprio per capire se possono esserci delle azioni da fare in coordinamento proprio che vanno in questa direzione. Quindi pulizia dal punto di vista stradale con uno dei nostri operatori, pulizia invece della rete fognaria con l'altro nostro operatore.